ecco un'opera d'arte appena realizzata dal nostro socio pietro vecchione del flag lab matteo cristalli asd un elicottero large scale scala gigante spettacolare curiosi di vederlo in volo a breve qui sulla nostra pagina del flag lab ragazzi un'opera d'arte che ha visto pietro impegnato un po di mesi la qualità del laminato ragazzi seguite la nostra pagina per gli aggiornamenti